Non si ferma la gara di solidarietà a favore dei rifugiati ucraini. Sono 15 quelli ospitati sinora a Cadoneghe. Tre sono bambini di 2, 3, 4 anni, cui si aggiunge una ragazza di 12 già inserita a scuola. Porte aperte da parte dell'amministrazione comunale che mette a disposizione della prefettura alcuni appartamenti del centro polifunzionale Altiero Spinelli, struttura che sarà gestita grazie ai CAS, centri di accoglienza straordinaria. Intanto, nella sala consigliare del municipio, continua la raccolta di generi di prima necessità smistati grazie ai volontari della protezione civile.